Sanremo va sulla cima del mondo, sul tetto del mondo, una spedizione in Argentina su una vete di un vulcano. In questi casi bisogna incrociare anche un pochino le dita perché anche le difficoltà atmosferiche fanno parte insieme a quelle altimetriche di alcune difficoltà da superare. Però i nostri ragazzi sono eccezionali, sicuramente riusciranno a portare il gagliardetto dalla nostra città che gli affidiamo, sicuramente corroborato dalle loro firme, dalle foto sulla vetta, che poi potremo mettere nella nostra baccheca e dare un'ulteriore visibilità a questa spedizione. Antonio Santa Eusagno è il capo della spedizione e anche il capo della sezione... Presidente, sono Presidente qua della sezione di Sanremo. Ecco, un'avventura entusiasmante. Direi abbastanza impegnativa. In quanti siete? Siamo in sei, tra i quali c'è una ragazza che arriva dall'alpinismo giovanile della sezione, quindi è con noi da quando aveva dieci anni. Ma questa è un'avventura mica da ridere, vi state preparando da parecchio tempo? Praticamente dalle state passate, quindi tutti si stanno preparando, la preparazione c'è. Qual è la parte che vi preoccupa di più? La parte alta, chiaramente. L'ultimo passo, è sempre quello più difficile? L'acclimatazione dovrebbe essere fatta bene come l'abbiamo studiata, però manca ossigeno in quota. E lì è una zona particolare perché l'ossigeno manca prima, è un po' come il nostro Monte Rosa, la quota è più bassa. Tra barendisi è il vulcano più alto del mondo questo. Quanti metri? 6.893 metri ed è considerato attivo. Si trova sul confine tra l'Argentina? E il Cile. E il Cile? C'ha due punte, la differenza delle due vette sono 50 cm. Bene, pesante, lei è un dipendente comunale che così da Sanremo, dalla Città dei Fiori, salta in mezzo alle nuvole. Sì, infatti diciamo, noi di Sanremo di solito quando poi sul posto ci vedono con un attimo di perplessità perché Sanremo è conosciuto effettivamente, mi sono reso conto, in tutto il mondo, naturalmente per il festival di Sanremo, per le canzoni, ma non certo per questo tipo di attività, quindi insomma rimangono molto perplessi, però insomma di solito riusciamo a farci valere. Questa spedizione viene organizzata in relazione ai 70 anni della fondazione del Sezionale CAI di Sanremo. Quanto ci mettete ad arrivare in cima alla vetta? Dunque, diciamo che le tappe necessarie, sempre che le condizioni atmosferiche siano ottimali, insomma, per la salita, sono praticamente tre tappe per arrivare al campo base. Faremo una salita di prova ad un vulcano più basso, che comunque sarà oltre i 6.000 metri vicino al campo base, dopodiché avremo ancora altre due giornate, un campo alto, dal campo base un campo alto e la salita alla vetta, quindi in tutto ci vorranno 5-6 giorni. Iori, tu sei giovanissimo, sei anche tu dipendente del Comune di Sanremo, quanti anni hai? Eh, 40, quindi. Ah, te li porti bene, te li porti bene, da quanto è che fai l'arampicatore? Io vengo dalla speleologia e dal torrentismo, ormai ho 25 anni di attività dietro, di alpinismo ne ho fatto pochissimo, anche se qua le difficoltà saranno più che altro legate non tanto a livello tecnico della montagna, quanto alle condizioni ambientali e alla quota. Mi siete messi in ferie per andare a fare questa avventura? Tre settimane, così per evitare qualsiasi... Eh, per forza, sì, si accusa di... Dire che non la trasferta era un po' forzata. Giulia Barli è il tocco femminile di questa spedizione alla conquista del vulcano tra i più alti del mondo. Qual è la molla che ti ha spinto a fare alpinismo in questa avventura? Ma, diciamo che mi è sempre piaciuto andare in montagna, ho iniziato fin da bambina con i miei genitori e poi dall'età di dieci anni frequento anche il CAI. Quindi ho continuato, cioè sono sempre andata in montagna e la passione è cresciuta con gli anni. Cosa fai tu nella vita? Io faccio la maestra all'elementari. Ah, c'è la maestra all'elementari? Sì. E i tuoi bambini cosa dicono? Che le lasci la storia? Eh, i miei bambini, alcuni mi hanno detto, no, non andare, non ci vediamo per tre settimane, no, non puoi andare un'altra maestra al tuo posto. E altri mi chiedono, ma com'è? Ma fa freddo? Ma è difficile? E poi mi chiedono, magari i paragoni, non so, ma è più difficile che andare a Montevignone? Cosa è così? Toccherete proprio la cima il giorno di San Valentino. È un bel auspicio. Sì, sì, è vero. Che si chiama il tuo ragazzo? Valentino? Valentino, sì. Carlo Fiorili, altro componente, uno dei sei, dei magnifici sei. Sì, è una bella esperienza, un sogno. Sono quei sogni che si vivono tutta una vita. Ci sono un anno e mezzo di preparazione, di impegno, lavoro, famiglia e poi tutto il tempo libero deve essere consacrato proprio allenamento, andare in montagna, preparare tutto, materiali, cartine e poi sognare, sognare fino a speriamo che questo nostro sogno diventi una realtà. Sicuramente. Sogno, però anche preparazione, anche passione. Tanta passione. Non ci fosse la passione, certe cose nella vita non si farebbero, bisogna crederci tanto. Considerate una cosa, che dove noi faremo il campo alto, il campo base nostro sarà più alto del Monte Bianco, che come vetta è ambita da tutti. Noi arriveremo sulla vetta del Monte Bianco e non avremo ancora fatto veramente una vetta, saremo ancora molto piccoli, piccole formiche. Se da nella vita di cosa si occupa? Io sono impiegato all'ASBM di Monte Carlo da 30 anni e la passione è nata 31 anni fa e tramite amici che mi hanno seguito, questa ormai è diventata quasi un amante della mia vita. La moglie non è gelosa? No, perché anche lei è appassionata di montagna, la bimba anche lei è chiara, è già tesserata al CAI, quindi siamo tutti e tre che è una passione che non possiamo non avere nel sangue. Giovanni Lorenzi, sesto componente, ma tutti e sei, magnifici sei, come ho detto prima. Lei fa il tassista nella vita normale e come mai un tassista sogna di andare sempre più in alto, sopra le nuvole, 7.000 metri è questa cima, questo vulcano? Beh, tanto è radicato in famiglia da sempre perché ho iniziato ad andare in montagna da bambino, a 8 anni, 9 anni già andavo con mio papà. Poi questa sarebbe la quarta spedizione che faccio, per cui diciamo che... Cosa hai già fatto? Ho già fatto due spedizioni in Himalaya e una in Karakoram. Ho già salito alcune vete di 6.500 metri e a parte poi Monte Bianco, Monte Rosa, che passano in secondo piano anche se non hanno niente da invidiare. Ne sono passeggiate? No, no, non hanno niente da invidiare, diciamo le cose come stanno. Quando sarà lassù, sui 7.000 metri, l'emozione che vorrà? Cosa penserà? A chi penserà? Ma essendo già stato quasi a quelle quote, posso dire che la cosa che affascina più di tutto sono i grandi spazi enormi e te ne riempi proprio gli occhi di tutte queste cime luccicanti, è incredibile. Sono cose che puoi vedere, sì, anche dall'aereo, ma è una sensazione completamente diversa. Speriamo che vada bene anche questa volta di riuscire a rimettersi nel cervello nuove immagini, anche perché sulle Ander non sono mai stato, ed è un paesaggio completamente diverso dall'Himalaya e dal Karakorum.